abbiamo un dato di fatto oggettivo c'è un mondo di forza italia che sta guardando intorno non crede più alle promesse di giorgia meloni non può credere a forza italia guarda dall'altra parte a chi può guardare sul tema delle tasse della libertà della giustizia e c'è un mondo del pd che è il mondo del pd che ha fatto grande il pd che ha fatto vincere il pd che vuole scommettere sul lavoro che vuole scommettere sulle riforme che non si accontenta di vivacchiare perché ho fatto passo indietro in questo periodo per cinque motivi e va bene fatto di peggio il primo motivo per cui ho fatto un passo indietro è stato perché c'era intorno a me un clima di caccia alle streghe giudiziario questo clima di caccia alle streghe giudiziario non è terminato vi farei vedere l'ultima citazione che ho ricevuto dal tribunale di potenza che mette in discussione il fatto che io abbia detto che l'inchiesta a tempo rossa è stato uno scandalo e un flop e un buco nell'acqua è stato uno scandalo di pd. Grazie a tutti.